Quando il gioco si fa duro... Scusa, mamma. È ora del sollevamento pesi. I duri cominciano a guardare Fine Living. Mi piace iniziare la giornata spaccando tutto? Ci siamo divertiti un po' con le motoseghe. Questo è un lavoro che sta per noi. Chiamatemi Vanilla Ice Tea. Passa un pomeriggio davvero uomo. E avremo la birra. Perfetto. Parole sante. Ogni sabato dalle 15 e 15. Su Fine Living. Canale 49